Buongiorno, venerdì 3 febbraio si è svolta l'ultima commissione cultura del Consiglio Comunale di Milano, commissione piuttosto importante perché prima di tutto il neo o vetero direttore del settore spettacolo Antonio Calbi si è ripresentato al Consiglio Comunale alla città di Milano di fatto, lui è entrato in servizio un mese fa e poi perché sono state date le linee guida del futuro sistema delle convenzioni teatrali di Milano, voi sapete che Milano ha circa 40 sale teatrali di cui la metà sono in convenzione col Comune di Milano, cioè ricevono annualmente un finanziamento per la propria attività di produzione e di esercizio. Le convenzioni attualmente durano 3 anni, è un sistema a detta degli stedi, molti operatori piuttosto chiuso, di difficile accesso, di difficile penetrazione, di difficile comprensione. L'assessore Boeri ha voluto dunque spiegare innanzitutto che la macchina, l'intera macchina delle convenzioni sarà semplificata e ha voluto comunicare i 5 nuovi criteri che secondo lui rinnovano profondamente il sistema delle convenzioni. Questi criteri ve li diciamo subito, sono il ricambio generazionale delle maestranze e dei quadri artistici, quindi verranno sostenuti teatri giovani e che rischiano. Il secondo criterio, riconoscimento di un particolare merito a quelle sale che riescono a organizzare attorno a sé delle reti con istituzioni, con organizzazioni pubbliche e private del proprio territorio, della propria sede, della propria zona, parlando di biblioteche, scuole, parrocchie, cascine, ma anche naturalmente imprese e organizzazioni private. Il terzo criterio, quello del creare una specie di sistema virtuoso, cioè i teatri convenzionati, sarà un criterio premiante il fatto che i teatri convenzionati accolgano progetti e produzioni di artisti presenti sul territorio, ma privi di sede. Uno dei problemi, dei problemoni di Milano è quello che oltre a 40 teatri di cui solo la metà sono in convenzione, c'è anche il fatto che ci sono tantissime compagnie di teatro e di danza che non hanno una sede. quindi questo sarà uno dei modi in cui si intende risolvere questo problema. Quarto criterio è quello che le sale teatri di Milano dovranno in qualche modo entrare in rete con le comunità, entrare in contatto con le comunità internazionali di Milano, questa è la famosa idea di Milano città-mondo di cui Boeri sta parlando molto in questo periodo, comunque si sa che naturalmente questa amministrazione ha particolarmente a cuore l'integrazione degli stranieri nella città di Milano. Ultimo criterio, la capacità di sviluppare collaborazioni e reti nazionali in due sensi, quindi sia l'ospitalità di compagnie internazionali a Milano, ma anche la possibilità di agevolare naturalmente il viaggio di compagnie milanesi sul territorio nazionale ma anche sul territorio internazionale. Questi sono i 5 criteri, si è detto anche che probabilmente le convenzioni che attualmente durano 3 anni saranno estese temporalmente e quindi dureranno di più, non è stato detto quanto e per quanto riguarda le convenzioni diciamo è tutto. A nostro avviso è mancata un po' la specifica delle modalità di accesso alle convenzioni, c'è sempre un po' il tema dell'accesso e della trasparenza che a nostro avviso è un tema un po' nevralgico per questa amministrazione che deve ancora dimostrare di essere veramente nuova e portatrice di vento nuovo da questo punto di vista, finora a nostro avviso non è stato dimostrato questo e quello delle convenzioni sarà un altro banco di prova che speriamo risulti vincente per il Comune di Milano di lavorare sul tema dell'accesso libero e trasparente a un sistema che come dicevo all'inizio da moltissimi operatori è dipinto come un sistema chiuso o di difficile accesso. Poi altri argomenti sono stati i servizi, quindi il Comune di Milano vorrà dare dei servizi al sistema del teatro, uno di questi è una verifica periodica con gli stessi operatori teatrali sulle politiche culturali e teatrali della messa in atto dal Comune, il tema degli spazi, l'assessore Boeri ha menzionato alcune situazioni critiche che tutti sappiamo che sono situazioni critiche come il teatro lirico, il teatro dell'arte, quello della triennale, il teatro di Porta Romana e il teatro Macciachini, si farà qualcosa per questi teatri ma non sappiamo ancora cosa e poi la creazione di un piano, come dire, di un sistema di comunicazione unico per tutti i teatri, quindi una grande campagna di comunicazione online, offline, si vedrà come per coordinare i teatri, l'offerta per comunicare più che altro l'offerta del territorio. Questo è più o meno tutto, poi ci sono altre questioni molto tecniche, comunque non sono di grande interesse e niente, vi salutiamo, alla prossima!